Sessore, una tre giorni presentate questa mattina a Palazzo di Città dedicata a musica, spettacolo, teatro e tanto altro. Sì, una nuova rassegna, un festival importante organizzato dal Florian Meta Teatro in cui è molto interessante il coinvolgimento dei giovani, delle giovani, perché le curatrici sono delle giovani, aperto alle nuove generazioni e aperto soprattutto ai nuovi modi di fare cultura. Si apre con una nuovissima iniziativa che si chiama Attraverso la tendenza dove si muove quello che ci muove. È un nuovo festival che inizia proprio quest'anno con due giovani e nuove curatrici che sono Sibilla Panerai e Chiara San Vitale. E giovani le curatrici e molto giovani anche gli artisti invitati, proprio perché facciamo una proposta, come dire, di tendenza. Abbiamo tre giorni dedicati alla live art, ma anche al documentario, alla video arte, video performance, con spettacoli davvero eterogenei. Infatti il festival si basa sulla commissione dei linguaggi. Avremo il duo Bassi Caimmi con una ricerca sul corpo. Il corpo non solo femminile, ma il concetto di disequilibrio del corpo. Poi una serie di video di Goga Mason e Giulia Giannola. Ci mostreranno diverse tecniche, dall'animazione fino invece alla video performance. E poi avremo un'altra compagnia, Zerilli, che presenterà un lavoro, Zerilli De Bella che presenterà un lavoro sulla memoria, sul ricordo, il concetto di futuro. E poi infine abbiamo lo spettacolo di Maddalena Reversa, l'ultimo giorno, in collaborazione con Motus. Il suo segno di Motus è una riflessione sul concetto di natura, sul cambiamento climatico, e l'importanza di poter dare volto alla bellezza della natura che sta scomparendo.